In 11 mesi ha ospitato 350 persone, pazienti Covid con sintomi lievi o asintomatici che non potevano trascorrere la quarantena a casa. Ora la palazzina Drago dell'aeroporto militare di Milano interrompe la sua funzione, ma con la possibilità, se fosse necessario, di riaprire. A Milano al momento resta attiva solo la struttura del quartiere Adriano. Una struttura con potenzialità di aprire altre. ATS è in grado di offrire posti per largo margine, ma dobbiamo pensare che potrebbe esserci nel bisogno. Oggi siamo un po' al minimo, ma sta salendo l'isolamento in strutture protette. Il coinvolgimento dell'aeronautica nell'emergenza però non si ferma. Si sta valutando la possibilità di un utilizzo nel piano vaccini. Proprio qui a Linate l'aviazione gestisce un'importante drive-thru per i tamponi. A tutt'oggi siamo arrivati a 25.000 tamponi, 24.872 per essere precisi. Questo significa una media di 8.000 tamponi al mese. Nelle ultime settimane l'afflusso è salito 600 tamponi al giorno circa di media, poco sotto i livelli dell'autunno.